Una delle novità di questa assemblea è sicuramente la parte B2B. Abbiamo voluto dare un taglio volutamente aziendale all'assemblea perché rimuoviamoci anche esortativo del fare. I giovani imprenditori sono sicuramente il simbolo del fare della nuova generazione che viene avanti e quindi il fatto di organizzare degli incontri tra aziende di giovani e dove i giovani sono comunque protagonisti ci dà un valore aggiunto. Verranno organizzati questi speed date di 10 minuti e abbiamo scelto anche una location particolare che è l'auto che è appunto il simbolo del muoviamoci ed è anche un po' il nostro luogo di lavoro. Molti di noi, uno dei luoghi di lavoro, molti di noi si spostano moltissimo perché molti di noi fanno anche la bella parte commerciale e quindi ci sembrava bello ricordare l'auto come simbolo del nostro luogo di lavoro e simbolo di velocità e di dinamicità. Tra l'altro auto particolari. Sì, abbiamo deciso di... Il nostro sponsor sarà appunto Smart e quindi faremo tutti questi B2B all'interno delle Smart. Insomma, un'auto giovane. Sì, un'auto giovane per dei giovani imprenditori per un nuovo modo di concepire il B2B. Appunto verrà data una griglia ai partecipanti e quindi sapranno esattamente dove spostarsi all'interno di questa griglia le auto verranno disposte a scacchiera e quindi sarà tipo una battaglia navale. Sì, non affonderemo nessuno. Non affonderemo nessuno adesso. Grazie a tutti.